Amici di Euromusica, per noi è un grandissimo onore ospitare quest'oggi un artista che non ha bisogno di presentazioni, musicista, antautore, ha collaborato con artisti straordinari, ne cito giusto uno, l'immortale Lucio Dalla, però adesso direi di lasciare la parola. Mi riferisco ovviamente a Paolo Simoni. Benvenuto Paolo. Ciao, piacere, grazie a te per lo spazio, sempre un piacere. Hai pubblicato un singolo molto bello, si intitola Pornosocietà, ce lo vuoi raccontare? Sì, Pornosocietà è il primo singolo, lo chiamo singolo anche se considero questo disco un'opera totale e completa per una serie di considerazioni che adesso vado a fare. Pornosocietà è un brano, come hai potuto ben sentire, dal punto di vista sonoro completamente diverso da quello che ho fatto prima, ma si distanzia anche molto da quello che gira nel mainstream, nelle radio, nel senso che è un brano, come il resto tra l'altro del disco, piano e voce. Quindi intanto c'è questo punto che è importante dirlo perché è stata proprio una scelta precisa quella di voler fare un disco di questo genere, di questo tipo. C'è un disco suonato, canzoni suonate solo con un pianoforte che reputo uno strumento totale da questo punto di vista perché può essere melodico, percussivo, ma è anche questi 88 tasti che mi danno la possibilità di esprimere. Insomma il pianoforte a mio avviso non ha bisogno di altro se viene suonato bene e con condizioni di causa. Pornosocietà è il primo singolo che abbiamo scelto perché mi sembrava, visto il momento storico, visto quello che stava succedendo, un brano che così lo richiamasse. Quando l'ho scritto di certo non pensavo, insomma mi riferivo a delle cose che avevo visto e valutato, ma a buon vedere negli ultimi mesi questa canzone sta prendendo da sola sempre più forza per le tematiche e le cose che stanno succedendo nel mondo. Pornosocietà è una canzone che vuole un po' andare ironicamente a fotografare, a denunciare quella che è la nostra società dei consumi, quella in cui siamo tutti, in cui il consumatore è diventato il consumato. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'uomo è l'oggetto spesso che si mette in vendita e viene acquistato, venduto e comprato, a volte anche su insaputa spesso e volentieri. Cioè la pornosocietà è una società fatta di plastica, solamente di primo acchito, della prima foto che uno osserva, la prima immagine, e da quello io devo decidere se mi piace o se non mi piace. La pornosocietà è questa società, secondo me è un po' isterica anche dal punto di vista dei social, cioè c'è questa concezione che se tu hai tanti like, che se tu sei famoso su Instagram o si tocca, allora vali qualcosa. Spesso poi se andiamo a controllare che cosa sono questi contenuti, perché uno si domanda, ma come mai c'è tutti questi like? e vai a vedere che i contenuti sono abbastanza deboli, oppure proprio i contenuti non esistono. Ecco, allora questo concetto che stiamo apprendendo da tutto questo, è che se tu mostri un lato B o un muscolo, o fai un balletto, magari anche fatto male, ma quello è il meno delle cose, cercete molto di peggio, c'è il concetto che tu puoi essere visto dagli altri. Ecco, la mia considerazione è che questa sia una sorta di prostituzione. In più viene valorata questa immagine, questa tesi, da questi continui influencer che ci vogliono vendere una vita, che a parere loro ti vendono un concetto della serie, guarda che puoi diventare come me. E' già questo, è forviante, perché non capisco che cosa ci sia di così interessante. Sì, forse il fatto che si diventa ricchi e famosi. Ecco, questo discorso di diventare ricchi e famosi, semplicemente piegandosi a un volere di qualche multinazionale a cui ti propone di vendere un prodotto, e lo devi mettere sotto la tua faccia o in mezzo alla tua famiglia, devi mostrare il tuo privato, devi mostrare costantemente quello che, fino all'altro ieri, era qualcosa di sacro, deve essere messo in mostra al mondo, mi sembra che questa sia una cosa non tanto sana. Però la cosa più drammatica, insomma, è che le nuove generazioni, soprattutto anche come la tua, ma anche la nostra, perché non mi considero vecchio, crescono con questo concetto. Poi nella porno società, ci ho messo dentro anche questa invasione dalla parte della TV, c'è la TV trash, questi programmi che ci propinano costantemente, delle grida, degli urli, gente che non si capisce cosa fa, di questi programmi che, consentimelo, non solo rincoglioniscono noi giovani, ma anche i più anziani che stanno lì assopiti davanti alla televisione, tutto questo valorato da un internet che, da un internet malsano, perché poi c'è anche l'internet sano, l'internet malsano che è quello dei commentatori seriali, dei provocatori a tutti i costi, quelli un po' sgrammaticati, questa insicurezza di fondo che mostra il DNA di questa società, debole. Ecco, tutti questi grossi argomenti, anche un po' fastidiosi, uno dice ma perché li hai trattati? Eh, perché mi sono ritrovato a 36 anni a fare ancora il cantautore. E il cantautore, che oramai è un animale in via di estinzione, ha in teoria come obiettivo, dovrebbe averlo, quello non di scrivere melodie, testi così, ma proprio di andare a cercare come un giornalista di inchiesta di indagare su delle tematiche un po' scomode, ecco. Cercare di andare a raccontare la società, quella società che non viene raccontata dai mass media, quella che non viene raccontata dalla strada. Cioè, viene raccontata la strada, se è l'uomo della strada che la racconta, ma che rimane sempre sotto. Questa omertà di fondo, no, di concetti, mi sembra che oramai sia arrivata a un livello non totale, ma strabordante. Cioè, viviamo, secondo me, in una società dove tutti dobbiamo impegnarci a essere il più finti possibili con gli altri e tradire sostanzialmente noi stessi. Ecco, ti ho fatto una panoramica veloce, se mi vuoi chiedere quello che vuoi, però la porno società è questa. Cioè, è la società dove l'uomo è venduto. Noi tutti un po' ci vendiamo. C'è chi lo fa in maniera, volutamente, come ho detto prima, e altri che sono succubi, tutto questo. Ho voluto raccontare questo utilizzando la chiave dell'ironia, quindi utilizzando anche una musica jazz blues, anche per bilanciare, no? Perché quando incominci a utilizzare dei testi, cioè, se strappoli il testo dalla canzone, lo leggi, insomma, mi rendo conto, quando l'ho scritto mi sono reso ancora più, che non è poi così, come dire, tanto dolce. La musica va ad aiutare questo testo e cerca di rendere la canzone una fotografia ironica, cioè una fotografia sì, sincera, profonda, ma dal quale l'autore, cioè io, vuole prendere anche un po' le distanze, perché da tutto questo, sostanzialmente, cerco di prendere le distanze il più possibile e cerco soprattutto di non farmi corrompere da questi pensieri deboli, ecco. Nell'attualità stiamo vivendo, tra l'altro, quella dettata un po' dalla pandemia, ma non solo. Possiamo rivalutare quello che tu hai definito, ciò di cui tu hai parlato in questo singolo. In particolare, tutto ciò è essenziale e in realtà è passato in secondo piano, proprio grazie alla situazione che stiamo vivendo. E proprio a questo proposito, in questo periodo un po' particolare, tu come lo stai vivendo, ecco, come stai vivendo questa situazione dettata, purtroppo da una situazione drammatica, dal punto di vista sanitario? L'ho vissuta, la vivo come tutti gli altri, nel senso che sono rimasto poi chiuso in casa, soprattutto nel mio studio, che è una cosa che tra l'altro facevo anche prima. Chiaro che mi veniva a mancare il fatto di prendere una macchina, andare a trovare... Io sono emiliano romagnolo, ma vivo fuori dalle Emilia Romagna, quindi puoi ben pensare che per mesi, e anche ora, non posso andare a trovare la mia famiglia. L'ho vissuta come gli altri, però non credo peggio degli altri, perché ho dei vicini di casa, degli amici che l'hanno vissuta molto peggio di me, e quindi mi è scattato quel senso di dire, ok, cerco di aiutare chi sta peggio di me da questo punto di vista, e non solo dal punto di vista di sentimenti, neanche proprio fisico, materiale. Questa situazione che si è creata, che in cui stiamo vivendo, devo dire la verità, io era da un po' di anni che sentivo, proprio sono sincero, i miei amici, anche la mia compagna, mi dicevo, ma sei un po' drastico, guardate che secondo me arriverà qualcosa. Lo sentivo un po' nell'aria, non avrei mai pensato una roba del genere intanto, ma secondo me questa pandemia sta tirando un po' fuori, sta un po' aprendo i vasi di Pandora, cioè non dal punto di vista sanitario e della gravità della cosa, perché quella è la causa, e neanche la voglio commentare, anche perché non sono di quei tuttologi che va a parlare di virus in internet, io non ne so nulla, quindi lascio parlare gli esperti. Dal punto di vista dei sentimenti invece, mi sembra che eravamo molto deboli prima, e adesso lo siamo ancora di più, cioè è come se si fosse aperto, si fosse svelato qualcosa che era sotto, che era nascosta. E cos'è questo? C'è il fatto che noi siamo sostanzialmente molto impauriti dalla vita, molto impauriti dal concetto della morte, molto impauriti dagli altri. E questo negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede, perché questa iperconnettività in realtà, cioè che, tra virgolette, dovrebbe farci connettere tra di noi e comunicare di noi di più, in realtà non lo sta facendo, si sta mettendo in mezzo, perché non ci vende semplicemente la possibilità di interconnettere tu che sei nella tua città e io nella mia, ma subentra un meccanismo tale che attraverso questo mezzo io devo stare attento a una serie di cose. Ecco che si perde la vera comunicazione. Perché? Ed è quello a cui sto molto attento. Cioè, non voglio che il mezzo mi opponga alla possibilità di parlare con te come se tu fossi qui nel mio salotto o a casa con me. Invece, per quanto riguarda il dolore che provoca tutta questa situazione, cosa possiamo dire? Sono cose che capiremo probabilmente fra tanti anni. Io personalmente, ma questa è una mia idea personalissima e autonoma, sono uno che crede nel karma, sono uno che crede in un mondo che va oltre a questo qua fisico, materiale. E quindi, come c'è un karma individuale nostro, c'è anche un karma collettivo, c'è un karma di popolo, c'è un karma mondiale. Penso che questa cosa qui abbia a che fare proprio con il karma del mondo, cioè con l'umanità. Da un certo punto di vista, se noi riuscissimo a guardarla bene, questa cosa qui, ci potrebbe, ci darebbe la possibilità di unirci collettivamente. Ci darebbe la possibilità, come sentimento di unirci agli altri. Però vedo che questa cosa in molti l'hanno capita, ma in tanti, troppi, no. Cioè, perpetuiamo, continuiamo, anche con questo senso, quotidiano, da una parte ci sono le notizie, poi accendi sempre, o rimani sulla TV, e ti vengono addosso tutti questi programmi che cercano di distrarti, con il concetto di dire, vabbè, ma cerchiamo di parlare di qualcosa di più leggero. Ecco, con questo sentimento, con questo pensiero di dover sempre alleggerire tutto, che in realtà non è leggerezza, ma è un mettere il tappeto sopra la polvere, io penso che non sia una buona, una via di uscita. Ecco, quindi, spero di averti risposto. Mi dispiace tanto, io non sono stato colpito, grazie a Dio, neanche alla mia famiglia. Mi auguro, insomma, che c'è tanta gente che sta soffrendo, sta molto male, non lo dico perché è un cliché, ma perché c'è proprio amici e parenti che stanno male per questa cosa qua, perché non lavorano, perché non hanno il pane da portare a casa. Sono fatti molto importanti. Allora, in questi giorni, la crisi, c'è gente che in una crisi già di questo tipo fa anche cadere il governo, allora mi viene da chiedere, ma questi politici non potevano rimandare i loro dispettucci a qualche mese più avanti. Questo ci fa pensare che probabilmente alla classe politica del popolo non gli interessi più di tanto. Ecco, questo è un mio pensiero. No, ma guarda, c'è entrato proprio il punto della domanda, era proprio quello che ti volevo chiedere. An, è perché se ci fai caso, hai in altre parole raccontato esattamente quello che nel tuo ultimo singolo hai raccontato in modo, diciamo, un po' più ironico. E, quando dico è porno società, è esattamente una descrizione minuziosa di ciò che stiamo vivendo, ma non soltanto in questo periodo, proprio negli ultimi anni. e credo che chiunque debba ascoltare questo questo brano. Ecco, restando proprio sul testo di questo di questo tuo ultimo lavoro. Con un corso di formazione si è influencer su Instagram. Infatti, notizia di poco tempo fa e una nota università ha lanciato un corso di laurea proprio per diventare influencer. Ma è partito da lì la canzone, hai centrato tu adesso? Io ho scritto questa canzone perché mi arrivò proprio un'email, forse alla stessa università, apri un'email e devo vuoi diventare influencer? Iscriviti a questo corso universitario. Pensavo fosse una buffonata, sono andato dentro e ho aperto e effettivamente era tutto vero. È proprio questo, è da qui che è partita la canzone. Cioè, io non è che sono qua a dire noi social, a parte che questa cosa dell'influencer, se fosse un influencer che distribuisse dei pensieri belli e alti soprattutto per le nuove generazioni, sarei anche il primo a seguirlo. Cioè, l'influencer, quello che vende un prodotto e tutto il giorno sta sulla sua vetrina e intanto prende barcate di milioni dalle multinazionali e prende in giro milioni e milioni di giovani, questo non mi va bene a me personalmente. Io non l'accetto perché già siamo presi in giro da tutte le parti. Se in più devo anche star dietro a uno che mi sta vendendo del fumo, beh, a me personalmente questo non mi interessa. La pornosacetà, sì, effettivamente, come vi hanno detto prima, come hai tu e ribadito adesso, è una canzone che descrive benissimo il tempo in cui stiamo vivendo. Però io non lo sapevo quando l'ho scritto. Cioè, io ho semplicemente fatto un esame, ho buttato l'occhio a quello che... Ho aperto la finestra di casa mia, insomma, anche perché potrei scrivere, come fanno in tanti, canzoni d'amore che sono quelle più... che non ti mettono in difficoltà. Però, invece che stare dentro chiuso nella mia stanza, ho provato a aprire la finestra, a uscire, anche proprio ad andare fuori di casa e guardarmi un po' attorno. ma non è un mio merito. Io penso che le canzoni vivano di vita propria. Cioè, le canzoni non è che siamo noi che le scriviamo, le canzoni si scrivono da sole e poi l'artista, l'antenna, il ricevitore e le mette, le mette, diciamo, su carta o dove vuole. Secondo me, sia pornosacetà, come è successo ad altre canzoni in passato, anticipano loro perché forsemente le canzoni ci guardano, sono nell'aria, ci guardano, ci guardano e hanno una previsione della società di noi stessi e quindi arrivano in anticipo. Secondo me, su questo ti devo dare ragione, cioè, a conti fatti, è una canzone che ha una tematica assolutamente attuale. dovremmo ringraziare la canzone, non me. Io, vedi, quando scrivo una canzone e che esce, dico scrivo, ma sì, nel senso proprio l'atto pratico, ma rimango anch'io tutte le volte sorpreso da questo fatto, da questo meccanismo, perché per quanto tu hai studiato anni composizione, hai studiato anni musica, il pianoforte, hai letto libri, leggi, insomma, cerchi di coltivare anche un tuo lessico, quello che ti pare, ma tutti questi ingredienti non danno per scontato che poi tu ti metti al pianoforte e nasce qualcosa. Quindi ogni volta che succede questa piccola magia, mi stupisco tanto molto anch'io. Quindi, ma benvengano le canzoni, solo che poi coloro che dovrebbero trasmettere tutto, poi ti creano spesso e volentieri un blocco, un fermo, ma io sono un lottatore, quindi cerco di buttare giù i portoni. Hai capito? Noi chiaramente ci risentiremo quando uscirà il tuo album e lo ricordo in uscita il lo posso dire il 5 febbraio? Sì, sì, sì. Quindi noi ci risentiremo sempre faremo una piacchierata in quell'occasione, ma puoi farci un piccolo spoiler? Non so, tipo le tematiche trattate oppure... Guarda, il disco si intitola Anima, è un disco come ti ho detto piano e voce trattato con un'estetica e una modalità negli anni 70, quindi il computer l'ho messo proprio all'angolo, è totalmente rivolto all'ascoltatore cercando di non tirargli i pugni nelle orecchie con dei compressori e degli iconizzatori, ma un disco suonato per accarezzare e consolare l'ascoltatore. Un disco che parla... Ci sono canzoni di indignazione, di rabbia come porno società, ma ci sono anche canzoni d'amore, di vita, di amicizia. Ho dedicato una canzone anche al mio animale. Ci sarà anche un ospite importante ed è un disco, ci sarà anche il vinile, è un disco che vuole essere una prova d'amore e d'affetto nei confronti della musica, ma soprattutto un affetto e uno spendere un qualcosa per chi sta dall'altra parte e lo deve ascoltare. perché secondo me appunto ho chiamato anima anche perché non è solo l'anima del disco, non è solo l'anima mia, ma anche l'anima degli altri e l'anima del mondo. Quello che parlavamo prima, c'è questo senso di ritornare a rispettarci e di non essere sempre utilizzati come qualcuno o qualcosa a cui vendere qualcosa. Ecco perché la porno se c'ha, ecco perché anima, ecco perché ha 36 anni in Italia c'è uno che si chiama Paolo Simoni che chissà perché fa delle canzoni che ricordano quelli del passato, oramai è un dato di fatto e si chiede a 36 anni perché lo fai? Perché ho un amore infinito, totale per questo mestiere, perché ho avuto dei maestri che mi hanno insegnato questo perché a 14-15 anni ho avuto diciamo un'introduzione a un certo tipo di mondo di letteratura e oggi siccome mi sento che ho fortunato per questo mi sento in obbligo e in dovere ma con piacere non un obbligo negativo un obbligo che sorge da un spontaneo da un senso di affetto per qualcuno che di là credo ci sia come te o anche di un altro che abbia voglia di ascoltare delle cose diverse e soprattutto di ascoltarle con un ritmo anche diverso. E benvengano queste cose diverse perché diciamo come dicevamo prima di iniziare questa registrazione la musica è vita e ci spinge ad andare avanti a volte anche nei momenti di sconforto quindi è un piacere ascoltare un po' di musica diciamo è vecchio stile piano e voce è sempre un piacere magari qualcosa di diverso in mezzo a tanta a tanta elettronica non fa mai male No hai detto una cosa hai detto diverse cose giuste che condivido intanto sul fatto della musica la musica è quella che ci salva come l'arte cioè se l'uomo si vuole sublimare deve avere a che fare con l'arte assolutamente è l'unico ingrediente in questa vita che ci può dare la possibilità di accedere a qualcosa di superiore oltre al materialismo contingente quotidiano e poi ritorno anche a un senso musicale diverso che non sia solo un prodotto commerciale che deve essere distribuito e pompato per la massa ma un progetto che vuole andare per la sua strada e vuole così stringere la mano al suo ascoltatore che si metta comodo e rilassato e si ascolti o con le sue cuffiette quello che vuole con le sue dove lo desidera delle storie magari che negli ultimi anni non ha potuto ascoltare e anche con questo sentimento così di affetto e di compartecipazione emotiva da parte di stati del microfono ecco mi sembra che cercato con queste canzoni di far questo di cercare di essere più umano e di portare l'uomo vicino all'artista cioè non l'artista quello che deve stare sempre tre metri sopra il palco che deve fare la star con tutti che gli portano dietro le cose ecco mi sento molto lontano da tutte queste cose qui e mi sento più vicino alla gente come me o anche quelle magari persone con cui non condivido certe cose ma che vivono la loro vita e poi anche così un gesto d'affetto anche magari mi farebbe piacere poi chiudo questo concetto del che magari qualche musicista giovane ascoltando questo disco gli dice ah loro si può ancora fare un disco del genere cioè io posso anche scrivere le mie canzoni con la chitarra col pianoforte con quello che voglio con due tre elementi e posso comunicare con questi piccoli ingredienti cercare anche di dare questa 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 forza questa questo imprinting perché altrimenti si risulta che tutto che tutto piove dall'alto i dischi vanno fatti in una certa maniera vanno vanno prodotti in una certa maniera e sono però oramai anni che produciamo 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 ma facciamo stiamoci attenti buttiamo l'occhio rimane poi poco e nulla nel tempo è tutto un'usegetta anche la musica è diventata un uso e consumo questo è perché fa a capo a tutti i discorsi che abbiamo fatto fino adesso e quindi so va volevo fare un disco di cuore di anima e di spirito l'ho fatto sono molto contento ringrazio anche il mio manager il produttore Claudio Maioli che ci ha creduto come ha creduto negli altri miei dischi perché è anche importante avere qualcuno che aiuti gli artisti quindi auguro anche ai giovani musici di trovare qualcuno che li comprenda veramente e non li voglia trasformare in qualche prodotto così utile e futile per quei cinque minuti va bene io resteria ad ascoltarti letteralmente per ore però purtroppo il tempo il tempo è tiranno quindi dobbiamo terminare va bene ma poi tanto se ci sentiamo ci sentiremo ancora quindi io ti ringrazio ancora per per questo per questa perla e ci hai regalato quest'oggi e lascio un messaggio al volo per tutti i nostri lettori e ascoltate questo singolo meraviglioso porno società e ascoltate anche gli altri gli altri gli altri apolavori di questo straordinario artista e paolo simoni ti ringrazio tanto noi ci aggiorniamo chiaramente per l'uscita del del tuo album certo 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 ti ringrazio io a te per la disponibilità e finalmente vedo un ventenne con le le spalle larghe e dei contenuti con delle domande serie questo mi fa ben sperare quindi grazie sono io che ringrazio te per tutto continuiamo così avanti grazie a tutti grazie a tutti